In occasione del Salone del Mobile abbiamo reinterpretato il ristorante, il teatro all'interno dell'Hotel Four Seasons. La mia idea parte dalla reinterpretazione appunto di un quadro, il quadro Colazione sul fiume di Renoir e quindi l'idea è stata quella di portare un po' il mondo esterno all'interno creando una sorta di giardino quindi colori, accostamenti di colori, forme, parallelepipedi che reggono un allestimento plureale con candele, con oggetti antichi che fanno parte proprio del desiderio di voler creare un ambiente per l'accoglienza, un ambiente per la convivialità. Tutto è stato realizzato con la collaborazione di Arosi Interiors che ha appunto seguito fedelmente i miei disegni, il mio progetto per la realizzazione di ogni elemento in maniera assolutamente artigianale.